No, 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 no. Grazie mille ragazzi, grazie davvero di cuore. Un autografo speciale per Castedo Online. Ah, ok, a Castedo, sì. Un saluto per i nostri lettori. Saluto tutti i lettori di Castedo Online e ringrazio tutti quanti per avermi sostenuto, soprattutto per gli articoli bellissimi che ho letto durante il mio percorso. Grazie. Grazie.